La mia azienda è storica, nel senso che sono di generazioni che facciamo il vino, già da mio nonno, da mio padre e poi da io adesso da un po' di anni, da vent'anni in questa parte, che sono io che porto avanti l'azienda. Prendendo la linea di mio padre ho cercato di sviluppare più che altro sulla qualità del prodotto, dare dei prodotti che siano di alta qualità, non sulla quantità, ma prodotti particolari ed elite, cercare di fare ancora qualcosa che possa colpire il consumatore, che sia caratteristico di questo territorio, che è un grande territorio il nostro Roero. Io come prodotti faccio il Roero Orneise, che è un 13 gradi e mezzo, un orneise molto strutturato, profumato e cerco di lavorare appunto esclusivamente sulla qualità di questo prodotto. Altro faccio due tipi di Roero, un Roero, chiamiamolo base, invecchiato in botte grande un anno, e un altro Roero, il Brico Anime, che invece fa un invecchiamento di un anno in barrique, più tre anni totali di invecchiamento. Poi faccio anche il Barbera d'Alba, che è una Barbera di 14 gradi e mezzo, molto strutturata, diradata, che fa l'affinamento in acciaio e in botte, non barricato, e poi il Birbet, che è un bracchetto dolce, il nostro bracchetto del Roero appunto, vitigno bracchetto del Roero, vinificato dolce, 5 gradi, è un vino da dessert molto profumato, molto gradevole.